Le giornate della memoria organizzate dall'Associazione Sicistoria con il patrocino del Comune e della Regione hanno toccato il punto più alto durante l'ultimo fine settimana. Dopo la messa nella Chiesa Madre in soffraggio dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale, un corteo con le autorità si è mosso da Piazza Municipio in Via Vittoria. Anche sabato era presente il comandante regionale della Guardia di Finanza Ignazio G. Bilaro. Il corteo è giunto al Molo Crispi dove alle 11.50 è avvenuto l'imbarco su motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei carabinieri per la cerimonia in mare con deposizione delle corone d'oro in memoria dei caduti del Dragamine RD36 e del comandante Giuseppe Di Bartolo decorati con medaglia d'oro al valor militare. Porto in pedo che durante la Seconda Guerra Mondiale era un'importante base militare per la Marina Italiana e successivamente anche tedesca, per tale ragione fu mattoriata dall'aviazione anglo-americana dal giugno 1940 al 16 luglio 1943, quando la città cadde nelle mani dei soldati americani della Terza Divisione di Fanteria Americana. Tra le navi militari che erano state ormeggiate al porto durante la guerra vi erano anche l'RD36 e l'RD37, piccoli dragamine a vapore della regia Guardia di Finanza. Questa flottiglia era comandata dal tenente di vascello Giuseppe Di Bartolo del comando regia marina della torre di Carlo V. Alla fine del 1942 questa flottiglia fu trasferita a Tripoli, dove il 20 gennaio 1943 il destino avrebbe riservato una fine eroica. A causa dell'imminente arrivo della vittoriosa ottava armata britannica, Tripoli fu evacuata dagli italo-tedeschi la sera del 19 gennaio. Un commoglio di navi tentò la fuga dal porto di Tripoli, scortate dai dragamine della Guardia di Finanza RD36-37. Alcune ore dopo, però, a largo di Zuara, il commoglio navale fu intercettato da tre cacciatori pedinieri britannici. Fu in quegli istanti che il comandante di Bartolo ordinò all'RD36 l'attacco suicida, in modo da dare il tempo ai mercantili carichi di soldati in fuga di avvicinarsi il più possibile alla terraferma, permettendo il salvataggio di più vite umane possibili. La manovra riuscì perfettamente, le navi furono anch'esse affondate, ma vicino la costa e molti uomini poterono salvarsi. C'è stato anche un appello delicato del parroco Don Argento al capo della Guardia di Finanza. Le affido le vittime dell'usura. Stiamo vivendo un momento molto delicato. C'è tanta gente disperata.